ok vaffan banni voglio un aereo voglio un aereo il mio carro armato bene un aereo due aerei ci sono caccia prendi un caccia andiamo in due aerei diversi ma dai ho colpito qualcosa ma questo qua ha le bombe ok era andato perchè non hai un aereo oh l'ho colpito oddio mi stavo andando contro ma io non vedo niente in aereo ora guarda ora ti passo sopra guarda ora ti passo sopra ecco oddio un bombardiere davanti a me guarda però non pensavo su salve invece no oddio ecco tipo il mio aereo ora vai 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 sopra ho sabotato un veicolo no aspetta sono fuorizzona Io non sto capendo più dove cacchio sono Ma non possiamo prendere un aereo e scappare Oddio ho colpito qualcosa Ciao Dina Se questo ti viene contro Ma sei morto Esplosa Ma sai che tipo nel campo nemico non si vede un cacchio Io vado alla ceta Oddio Trovato in culo con ogni amico Oddio Abbiamo un problema a Houston Oddio C'è un nostro dirigibile in arrivo Bimuth 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 Cazzo che È dirigibile È alleato genio Partito è un dirigibile in arrivo Ma dimmi se poi ti piace Oddio da dove mi stanno colpendo Da dove È diventata una roccia È un aereo genio Ah ho notato Colpito Oh io li colpisco ma non li abbatto Dov'è ora? Abbiamo conquistato l'obiettivo alfa Spara a terra Dove ti porta il cuore Guardami Mi vedi? Però io ce ne ho 이런 Questa Mi vedi molti abbiamo perso l'obiettivo charlie abbatto la manetta ma porca pazzana non so è andato in terza persona ma perché ci sono tre i nemici pensate io non riesco a stare in coda cosa strana oh non riesco a colpirlo non riesco a stare in coda a f*** 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 E' un po' di quello, non è un po' di quello. Tieni lo, tieni lo Tio mio Vieni muto quel cazzo Abbiamo perso l'obiettivo alto Sì muto quello di subnauto C'è la marmitta che scoppia Non capisco Cosa Ha bombardato questo Dov'è? Basta Abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie Oh ma non riesco a batterli più ora Forse ho finito Mi accadillo da pilota Oh la fanguola Oh finalmente veicolo distrutto Non ci posso credere il veicolo Ho battuto il veicolo E si è schiantato contro Indirigibile Abbiamo conquistato l'obiettivo Delta Ok Io mi chiedo ma scusa ma c'è un anno spezzato Ma cazzo fai ripararlo in aria Scotch Molto scotch Basta Oh ma Bassi Come si è schiantato Come si è schiantato Abbiamo conquistato un'attura Che non si è schiantato Perché non si è schiantato Io sto sento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cosa è successo l'esperienza si vede da come pilota in aereo 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 8 9 10 10 10 11 e se non esplodevo se non esplode perché ci sono gli edifici e non lo no non è vero perché sono in culo l'unico aereo che lo riesce a disperare esplode esplode no stiamo perdendo l'obiettivo bravo veicolo sabotato non credo che ce la farà ripararlo no no abbiamo conquistato l'obiettivo ecco oh no non sei qui oh di là ti ho visto no faccio un altro bombardiere io mi sono incastato in un bombardiere mi sono incastato nel bombardiere non ci posso credere dirami si è incastato l'aereo nel bombardiere stanno volando via insieme sono riuscito a rientrare in zona non ci posso credere no da dove ma fuori zona quello non puoi stare ah comunque mi hanno tipo distrutto l'aereo ho notato aspetta che arriva in campo abbiamo perso l'obiettivo come oddio ho toccato terraferma ci sparano dietro ho sparato un colpo mi hanno ucciso non sono più abituato a stare in campo oh due caro armati prendo carro armato autocarro armato costo qua via 6 caro armato fuori resti oh ma io voglio provare a fare il cuore ma io mi chiedo ma con che robato che lì è esplosato da quanto tempo è lì non recuperare tina sta andando lentissimo casetta di luca che so che davanti si è schiantato un aereo c'era un tizio qui dentro me ne sono appena accolto si la stiamo catturando il genio abbiamo conquistato l'obiettivo siamo intanto con un svantaggio di 200 vai carlo armato non mi mollare ora dina c'è un caro armato sinistra e andare sulla torretta di sinistra dina dina quella di destra volevo dire io l'ho abbandonato ma un mortaio mi ha ucciso ma dai ma dietro la montagna come cazzo fa c'è un altro caro armato aspetta io vado con questo voglio provarlo cosa non è vero c'era qui dov'è cazzo mi ha buttato giù dal carro nooo infame di merda mi ha buttato giù dal carro armato questo qua cazzo ma ma cosa carro armato di merda mi ha fatto spawnare senza il carro armato cos'è che ho preso? eh aspetta non posso mi dice che sei in pericolo scappa allora non posso spawnare da te vai su c abbiamo conquistato l'obiettivo Charlie senti vado a prendere prendo una motocicletta e vengo da te se la provo una motocicletta di solito qui con la solita sfida che vanno la provo e non dire va bene abbiamo conquistato l'obiettivo Delta non dire niente né ok va bene questo gran cazzo ho trovato una motocicletta aspetta a caso andiamo ma per attuare sto cazzo di cazzo cos'è che devo fare? oh sei ancora vivo? cos'è che avevi? stiamo perdendo sali sul mio side car ti la muovi chi sta finendo la partita ti raggiungo voglio provare anche a guidare sto correndo piedi eccomi vieni qui gira più a destra fermati 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 dove cazzo vai non posso salire su sta merda non posso salire su sta merda ma il bombardato oddio c'è la mia motocicletta ok morirà io perderò la guarda sulla mia motocicletta sto suonando il clacson vai clacson si ora vengo arrivo oh oddio sto volando via con la motocicletta mi sto scherzando contro un basso ahah ho fatto 6 unici ci sono stato bravissimo vabbè ragazzi direi che finiamo il video qui cioè lo dividerò in tre parti perchè tipo dura mezz'ora quindi un saluto da lixon games hai lasciato eh si che pesa hai lasciato un like un mi piace un commento e iscrivetevi e bella ragazzi è che è che è